Amici, sono cinque anni che non ho infortuni gravi. Qua in Inghilterra anziché dire tocchiamo ferro si dice tocchiamo legno, quindi non c'è nulla di meglio che un bel tronco per fare questo. Ovvio ci sono tante ragioni che mi hanno portato a poter correre più a lungo, perché negli anni ho allungato di parecchio le distanze, ma soprattutto senza infortuni gravi. E con questo video voglio condividere la mia esperienza, perché penso che possa aiutare tanti atleti là fuori a evitare di infortunarsi tutte le stagioni, cosa che capitava molto spesso a me tanti anni fa. Mettetevi comodi perché vi andrò a dire tutto quello che ho fatto in questi anni per far sì che potesse correre più a lungo per più tempo senza infortunarsi. Ben ritrovati amici, che spettacolo di giornata che ho trovato oggi, perfetta per correre, anzi quasi troppo caldo qua a Londra oggi. Grazie a tutti. Una delle cose che mi portava spesso a infortunarmi era quello di non correre sulle scarpe giuste, perché compravo le scarpe seguendo la moda, seguendo quello che indossavano gli altri atleti che avevo in squadra, seguendo insomma quello che mi dicevano gli altri, senza fare una visita specialista per capire quale fosse realmente la necessità del mio piede. Quindi per esempio la pronazione, dove si va a consumare la scarpa, che tipo di scarpa serve a seconda del nostro peso, a seconda del nostro stile di corsa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il primo consiglio che vi do, attenzione alle scarpe. Fatevi fare una bella visita specialista da un professionista, di solito i negozi che vendono scarpe da running hanno la possibilità di monitorare la propria corsa e quindi capire, consigliare la scarpa giusta. Questo per me è fondamentale. Un altro problema relativo alle scarpe è il consumo. Tanti atleti non conoscono il consumo delle proprie scarpe e ci corrono su troppi chilometri, portando appunto a conseguenze non proprio bellissime. Le scarpe hanno durate diverse. Ci sono delle scarpe, pensate, che possono durare appena 300 chilometri e d'altre con cui ci potete correre per mille chilometri. E le variabili sono tante, ovviamente il tipo di scarpa, il materiale. Ci sono delle scarpe che proprio per natura durano meno, ma anche ovviamente il tutto dipende dal proprio peso, da come ci si corre, da dove ci si corre, eccetera, eccetera. Quindi bisogna essere in grado di capire se una scarpa è consumata o meno. Ci ho fatto un video un po' di anni fa, provo a mettervelo sopra, magari potrebbe essere un contenuto futuro su questo canale. Fatemelo sapere se volete avere un video relativo a come si capisce se una scarpa è consumata e quindi non ci si dovrebbe più correre o meno. Altro punto fondamentale è l'aumento di chilometri con moderazione. Una cosa fondamentale nella corsa, così come in tante altre cose della vita, è la sostenibilità delle cose, la sostenibilità anche della nostra corsa. Quello che il corpo riesce a fare, la progressione necessaria per far sì che il corpo si possa abituare. E quando parlo di aumento graduale di chilometri, non parlo solo dell'aumento graduale settimanale per portare a termine una preparazione, cosa fondamentale, ne abbiamo parlato spesso su questo canale, trovate diversi video al riguardo, ma parlo proprio dell'aumento graduale anche negli anni. Io corro da più di 15 anni e prima di mettermi a correre una maratona ci ho messo un bel po' di tempo. Sono partito dal mezzofondo cercando di creare una progressione e gli aumenti di chilometri che io facevo durante la settimana sono aumentati con gli anni. Ovviamente il mio primo anno di atletica non correvo 130, 140 o addirittura 160 chilometri la settimana come mi può capitare ora, ma ho abituato il mio corpo gradualmente a poter correre così tanti chilometri. Questo vi permetterà di correre più a lungo gradualmente e soprattutto senza infortuni gravi perché poi gli infortuni sapete bene che ci portano lontani dalla corsa. Un'altra cosa che ho imparato negli anni che mi ha aiutato a correre più a lungo senza infortunarmi è quello di variare il più possibile gli allenamenti. Sapete quanto è importante, ne abbiamo parlato spesso in questo video, vi ho anche fatto un video di come creare una vostra tabella, una vostra preparazione a una gala e la variazione negli allenamenti è fondamentale. Quindi variare i ritmi cardiaci nei vari allenamenti, variare tipologia proprio di allenamento fartlek, tempo run, medi, progressivi, ripetute in pista, su strada, in salita. Ci sono un sacco di variazioni che sono fondamentali per abituare il nostro corpo a crescere gradualmente a livello muscolare, a livello aerobico, eccetera, eccetera. Tutte cose fondamentali per riuscire a correre più a lungo per più tempo e soprattutto senza infortuni. E quando si parla di varietà è importante variare anche percorsi, ovvero di non correre sempre su asfalto, sempre negli stessi posti, ma abituare le gambe, i piedi a lavorare su terreni e situazioni diverse. Quindi evito, cosa che prima per esempio facevo spesso, di correre sempre in pista oppure sempre su asfalto e di non variare mai. Ora ogni allenamento io cerco di correre su un posto diverso. Un giorno corro su strada, un giorno corro sui prati, come questi qua bellissimi che abbiamo in Inghilterra, un altro giorno faccio trail, un altro giorno corro sul tappeto in palestra per variare, per abituare le gambe a lavorare con situazioni diverse. E soprattutto correre sempre su asfalto potrebbe portare poi a dei problemi, a degli infortuni anche seri. Quindi la variazione anche in questo senso per me è fondamentale. Quindi un po' di asfalto e un po' di prato. E un altro punto critico che ho imparato negli anni è quello di fare potenziamento muscolare. Fondamentale! Perché il potenziamento muscolare ci permette di avere una muscolatura più solida, più funzionale che quindi ci aiuta a tutelare per esempio le articolazioni, problemi per esempio alle ginocchia, le caviglia eccetera possono essere evitati proprio grazie a una buona e forte situazione muscolare. La preparazione muscolare è essenziale proprio per questo, proprio per cercare di correre più a lungo, per più tempo e soprattutto senza infortuni. Io ho sempre introdotto dei cicli di preparazione muscolare all'interno delle mie preparazioni. Non è sicuramente la cosa che preferisco della corsa, però è veramente importante. Quindi amici attenzione, ricordatevi, potenziamento muscolare! Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo negli anni a riuscire a correre più a lungo, avere più resistenza, ad avere un corpo più funzionale eccetera eccetera è stata sicuramente l'alimentazione, cosa che ho sempre avuto particolare attenzione nel modo in cui mangio ma soprattutto negli ultimi anni che ho iniziato ad allungare veramente di parecchio le mie distanze e anche la quantità di chilometri settimanali, ho notato la differenza di quanto è fondamentale mangiare bene. Cerco di documentarmi ovviamente, capire esattamente a che cosa serve il mio corpo, cerco di mangiare sano, pulito il più possibile, ovviamente non sempre ci si riesce però il più stiamo attenti e meglio sarà per il nostro corpo e ve ne renderete conto, ve lo garantisco. Io da quando mangio in una maniera più equilibrata, sto molto più attento, riesco a recuperare molto più velocemente dagli allenamenti, riesco a correre più a lungo, più resistenza, dormo meglio. Io insomma i vantaggi sono davvero tantissimi. E per concludere amici, l'ultimo punto ma secondo me davvero fondamentale è ovviamente il riposo. Non solo il riposo dalla corsa, il riposo settimanale, ovvero staccare ogni tanto dalla corsa e magari per esempio fare del cross training quel giorno o proprio non fare nulla se dovete staccare. O per esempio come ho fatto io riposare completamente per 3-4 giorni dopo una gara come nel caso della mia ultra che ho appena fatto questa settimana scorsa. Mi sono preso 4 giorni senza correre perché sentivo che il mio corpo ne avesse bisogno. Ma anche il riposo, quello classico del senso, del termine, ovvero di dormire di più. Ricordatevi che noi runners abbiamo bisogno di dormire in media di più rispetto a una persona normale che non fa sport. Noi runners abbiamo bisogno quell'oretta in più di riposo. Per noi quel riposo, quell'ora in più è essenziale per far sì che il corpo riesca a recuperare le proprie energie, che la muscolatura riesca a ricostruirsi eccetera eccetera. Più chilometri corriamo durante la settimana e più riposo abbiamo bisogno. Più ore dobbiamo provare a inserire. Lo so benissimo amici che è complesso, è difficilissimo. Ditelo a me tra lavoro, famiglia, bambini eccetera. Non è facile, lo so, riuscire a dormire le ore giuste. Però provateci quantomeno quando riuscite e vedrete la differenza. Tra l'altro ci sono degli studi molto interessanti che dimostra che chi riesce a riposare nella maniera corretta, quindi nelle ore necessarie, un sonno tranquillo eccetera, ha molti meno infortuni degli atleti che appunto non dormono a sufficienza. Amici queste sono le cose che ho imparato io negli anni, che mi ha permesso finalmente di avere oltre 5 anni di corsa senza infortuni gravi. Per infortuni gravi parlo di infortuni che ti tengono lontano dalla corsa. È ovvio che questo non è tutto, nel senso che ci sono tantissime altre variabili che porta ad infortuni, per esempio il proprio stile di corsa, quindi per esempio il proprio stile di corsa, se ci sono dei problemi proprio biomeccanici, il modo proprio in cui corriamo, il peso, se pesiamo troppo e facciamo troppi chilometri senza prima scendere di peso può essere un problema, la propria costituzione. Insomma ci sono tante ma tante ma tante variabili. Questi sono dei consigli per una persona ovviamente normale, esclusi tutti quei fattori che non sono controllabili direttamente. Ci tengo anche a dire che infortunarsi fa parte del gioco, ci insegna tantissimo o ci dovrebbe quantomeno insegnare. Io ogni infortunio che ho avuto in carriera mi ha aiutato a diventare un atleta migliore, proprio perché andavo ad analizzare, anche con gli esperti, il motivo dell'infortunio per poi migliorare, cercare di andare a lavorare dove ero più debole, appunto per esempio con il potenziamento muscolare o col cambiare le scarpe che magari mi portavano ad avere dei problemi. Insomma ogni infortunio può essere un'occasione per diventare un atleta migliore. Amici fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo argomento nei commenti e soprattutto se vi è piaciuto questo video per favore mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete, fate girare questo video il più possibile, aiutatemi a far crescere la community di Esco a correre, siete meravigliosi, vi adoro, grazie per tutti i messaggi che mi avete lasciato nell'ultimo video dove vi ho raccontato la mia ultima esperienza, non proprio è andata benissimo, mi avete dato una forza incredibile, io sono pronto per ripartire come vedete, ci vediamo alla prossima, correte e fate l'amore, ciao belli! Ciao!